Il sindacalista Fisi Sanità Rolando Scotillo interviene in diretta a News su Cilento Channel per parlare dell'ospedale di Agropoli. Un mese fa cominciamo a ipotizzare che il presidio ospedaliero di Agropoli potesse essere una struttura Covid per le caratteristiche che ha, essendo la struttura più nuova della provincia, ha dichiarato Scotillo. Da quel momento siamo un po' in ritardo anche se l'ospedale è pronto a livello strutturale. Si parla di carenza di personale ma dovremmo rammentare all'ASL che si può attivare la mobilità di ufficio e prelevare da altri presidi il personale. Ci sono anche le graduatorie attivabili. La soluzione c'è, bisogna vedere a livello di volontà politica se c'è la risposta del direttore generale. Non so se tra un mese avremo ancora questa emergenza ma ora c'è e ci si deve attrezzare. Non vedo perché non si va a potenziare le strutture che ne hanno bisogno con il personale a disposizione piuttosto che tenere fermi gli ospedali sanitari. Il direttore Iervolino non può sottrarsi alle risposte sulle intenzioni per Agropoli. Dopo la questione ospedali, Scotillo lancia anche l'allarme per le altre patologie e la mancanza di cure che ci sono per via dell'emergenza coronavirus. Gli ammalati non si stanno curando, si è bloccata tutta la sanità, anche i centri privati. Essendo bloccata la sanità pubblica e privata, non si sa dove rivolgersi. Non si muore solo di covid-19 ma anche per mancanza di cure e per altre patologie. De Luca disse che dopo il 16 gli ospedali sarebbero dovuti tornare alla normalità ma con le date non ci troviamo. Per l'emergenza dovevano essere utilizzati solo i tre covid hospital della provincia ma così non è stato.